E' passata quasi una settimanata con l'impresa che sembrava impossibile, ossia la vittoria di Renato a Corinti contro le otto liste del centro-sinistra. In una settimana sembrava essere già cambiato tanto. I tornelli di Palazzo Zanca battuti con i cittadini che finalmente possono rientrare nel loro municipio liberamente. L'auto blu che potrebbe essere venduta, anche i giornali nazionali ne parlano. Ma cosa ne pensano i messinesi? La piazza che spiazza, parole cittadini. Scusi, Renato a Corinti, il nuovo sindaco, cosa ne pensa? Sono fiducioso, sono fiducioso perché potrebbe dare una ventata giusta a questa città, una ventata di ottimismo per quanto riguarda il bene di questa città. Già i primi provvedimenti, l'auto blu che potrebbe essere venduta, i tornelli abbattuti è già un segnale? Sì, sicuramente sì, ma sono convinto che non si fermerà a questo. Io lo conosco da un bel po' di tempo, da quando lui correva, perciò conosco le sue potenzialità. Io sono molto fiducioso, sicuramente farà il bene di questa città anche se siamo un po' disastrati, sappiamo cosa c'è sotto a Messina. Sono sicuro che lui insieme alla sua giunta farà qualcosa di positivo. È una ventata di ottimismo comunque. Cosa ne pensa il nuovo sindaco di Messina, Renato a Corinti? Sembra una brava persona, da quello che abbiamo visto. Speriamo che tutto si risolvi a breve termine. A me è fatto piacere veramente perché è alla mano, è simpatico. Speriamo che riesca a fare. Avrà un compito un po' difficile perché ci sono troppo problemi. Poi sta a quelle che ci sono accanto, che dice lei. Ma speriamo che tutto... A me è fatto piacere. È simpatico, ecco, è alla mano. Non so, poi in seguito vedremo. Assolutamente d'accordo. Spero che possa essere un nuovo inizio per questa città. Spero che ci saranno tanti cambiamenti, positivi ovviamente. Cosa ne pensa il nuovo sindaco? Beh, insomma, all'inizio sembrerebbe una persona che sia stata... insomma, che voglia fare tanto, però non vorrei che magari poi inciampasse su qualcosa di importante come i servizi sociali perché già ho sentito qualcosa che ha creato, credo, riguardo Casa Serena. Non penso che sia molto popolare quello che ha detto l'assessore Mantineo. Non so, per quello. Potrebbe anche fare qualcosa di buono. Speriamo, ce la auguriamo. Potrebbe essere una bella novità. Proviamo il nuovo. È bello. Noi l'abbiamo sostenuto. E cerchiamo che non ci deluda. Giusto? No, io sono molto contenta. Non sono di Messina, ma l'ho votato e spero veramente che possa fare qualcosa per questa città. Sono molto contenta. Anzi, spero di andarlo a conoscere personalmente. Ah, finalmente evento nuovo. Cambiamento. Cambiamento. Allora, io non l'avevo votato all'inizio. Poi, praticamente, nelle due settimane ho votato Carofalo. Nelle due settimane successive ho visto quello che lui ha fatto veramente per la città. Allora ho detto lo voto. È il mio professore in prima media, Lenzo Drago. È comunque una cosa sicura. Non so se ne capisce di politica, però è onesto. E oggi a Messina ci vuole onestà. Questa ci vuole. Sono molto contento. Anche se al primo turno ho votato Enzo Carofalo, al secondo turno ho deciso di votare un sindaco fuori dai sistemi, dal sistema politico. Niente, ripartiamo dal basso. Sono contento perché penso che questa è un'opportunità per Messina. Se lo fanno lavorare sarà un buon lavoro per lui e per noi cittadini. Se non lo fanno lavorare vuol dire che ritorneremo sempre come prima o peggio di prima. Penso che devono passare un paio di mesi per vedere i fatti. Io, quando vedo i fatti, posso giudicare Renato Corinti. Voglio vedere i fatti io. Penso questo. Ormai io non ho più fiducia di nessuno. Se non vedo i fatti, non posso giudicare. Penso che rappresenti la novità in questa città che ha bisogno veramente di un vero rinnovamento. Anche se non condivido certe sue idee, però mi fa piacere che ci sia un volto nuovo e animato da buona volontà. Penso che potrà fare un cambiamento radicale per risollevare Messina dal basso. Renato Corinti è un innovatore, è un sindaco che rimarrà nella storia di Messina perché è completamente diverso da tutto quello che c'è stato prima. La sua provenienza dal settore dell'anarchia, del pacifismo, dello sport lo rendono un personaggio che, secondo me, come è apparso nell'intervista alla Zanzara che c'è stata l'altro poco fa, quindi a livello nazionale, lo renderanno un personaggio che passerà probabilmente alla storia. Gli unici precedenti che abbiamo possono essere quelli di Lapira, che proveniva da Messina e fu poi sindaco di Firenze, e di Dossetti, quindi quello che in modo spregiativo veniva definito catto comunismo, e che invece in realtà è l'attenzione per i disagiati, per i lavoratori in stato di disoccupazione, per le famiglie, per quello che è la crisi che non è solo di Messina ma è una crisi italiana e mondiale. Corinti è una bravissima persona, mi fa piacere che finalmente al comune si è da una persona per bene come Renato Corinti. Penso che sia un buon sindaco, da quello che si è sentito parlare, l'umiltà che ha, credo che possa fare bene. Spero che tutte le cose che ha in programma le possa veramente fare. Io credo nell'energia dell'uomo. Renato Corinti ha dimostrato che pur essendo una persona umile ha una grande energia positiva, e spero che questa energia positiva riesca a darla a tutti i cittadini messinesi per fare del bene. E spero che tutti i cittadini messinesi possano aiutare lui a fare del bene a questa città. L'unica cosa che vorrei, visto che io comunque aiuto i turisti, che faccia qualcosa per loro. Visto che il sabato comunque ci sono molti ragazzi, forse anche io, ma almeno cerco di aiutare questa città, che almeno dal punto di vista turistico cerchi di fare qualche cosa, cerchi comunque di mettere a proprio agio i turisti, marciapiedi, rampe che non ci sono da tutte le parti, monumenti sporchi, o anche, visto che deve aiutare, come ha detto lui, i giovani, gli anziani, che cerchi di aiutarci almeno trovando qualche possibilità di lavoro, anche dal punto di vista turistico se si può. Lui per me è una persona brava e buona, anche Calabro, anche lui. Però, gente, vuol dire che vuole dato lui, vuol dire che vuole cambiamento, una cosa troppo buona, perché per Messina c'è tanti tipi di lavoro ora, e lui ora deve fare troppo lavoro, troppo lavoro. Lui c'è tante cose che deve fare. Se lui fa come tutti gli altri che facevano, noi facciamo questo, noi facciamo questo, checchere, Messina ormai non si sta più. Fatta ci vuole, ci vuole lavoro, onestà, lavoro. Lui, se fa uscire questi ladri, questi ladri che ci sono comune, allora vuol dire che lui è stato bravo, fatto capace. Se lui non è capace, domani anche gente, come buttate tutti quanti fuori, anche buttano lui fuori. Se lui è bravo, tutto Messina dietro lui. Se lui è cattivo, fa peggio per lui. Io sono contentissima che abbiano scelto lui, perché sembrerebbe che sia molto interessato alla città, a noi, insomma. Siamo molto vicini a lui, probabilmente qualcuno che può fare di meglio rispetto a quello che hanno fatto in passato. Quindi è uno di noi, vediamo un po'. Io spero che possa fare qualcosa per questa città che ormai è crollata, insomma. Speriamo molto in lui. In bocca al lupo che faccia cose positive per la città. Persona eccezionale, finalmente, come dice lui, iniziamo dal basso. Speriamo bene. In bocca al lupo che faccia cose belle. Il mio augurio più grande è questo. È una cosa talmente bella che non credevo mai potesse accadere a Messina. Quindi fiducioso su quello che potrebbe fare a Corinti. Fiducioso su quello che possa fare a Corinti e su quello che possiamo fare tutti noi insieme a lui. Perché si parte dal basso, come dice lui, e quindi è importante lavorare tutti insieme. Posso astenermi? No, non lo so, no, dico, sto scherzando. Dico, mi faccio il mio più grande in bocca al lupo. È fiducioso o no? Scettico. Scettico. Ma solo perché probabilmente non ha l'esperienza alle spalle del potere governare. Però, quantomeno di buono c'è che Messina ha dato un segno di rottura con il passato, con la sua elezione. Io faccio il mio più grosso in bocca al lupo e speriamo. Speriamo bene. Abbiamo tutti fiduciati di lui. I messinesi sembrano essere tutti molto contenti dell'elezione di Renato a Corinti. Chi è più fiducioso, chi meno, ma comunque sembra esserci grande voglia di cambiare da parte dei messinesi. Adesso tocca da Corinti passare i fatti e ai messinesi dare sostegno al nostro nuovo sindaco. La piazza ha parlato.